buonasera allora stasera che cosa preparo per cena le salsicce peperoni e patate adesso vi faccio vedere al forno tutti che comprano questo forno dalla friggitrice ad aria mi sono fatta un giro certo che costa tanto per il momento va bene il forno elettrico e il gas cioè cucinare sul gas per il momento va bene così più in là magari me lo compro anch'io il forno il forno il fornetto ad aria la friggitrice ad aria vabbè adesso vi faccio vedere come cucino con il forno tradizionale salsicce patate e peperoni peperoni sono questi quelli che generalmente si usano scusate che generalmente si usano imbottiti uso questi peperoni qua poi le salsicce di taglio a pezzetti sono quelle salsicce sottili e poi ho messo a bollire per cinque minuti le patate perché le patate hanno un tempo di cottura superiore alle salsicce e ai peperoni guardate che bella pirofila guardate adesso vado a mettere un po di origano secco poi aspettare un pizzico di sale poi un po di un po di rosmarino un bel giro d'olio ecco qua non troppo è perché tanto le salsicce sono belle grasse e poi come tocco finale prima di mettere in forno vado a cospargere con un po di pane grattugiato adesso metto in forno 30 minuti 170 gradi guardate che spettacolo e che profumo adesso impiatto e buona cena